Non ho ancora certo una serie televisiva per far capire quanto è bella Treviso, si presenta da solo, non lo dico perché l'ho trovata in gran forma, in grande splendore. Chuck si gira ancora una volta tra le vie del centro di Treviso, una città che si trasformerà per 5 settimane in un set cinematografico per le riprese della serie televisiva Stucchi che racconta le vicende dell'omonimo ispettore di polizia misterioso e istintivo, protagonista Giuseppe Battiston. Avere qui una star come Giuseppe Battiston è una storia così intrigante, così bella, ambientata in una città anche dolce, anche misteriosa, quindi proprio il set ideale ci riempie di orgoglio. Un ritorno, quello dell'attore Giuseppe Battiston, sia nei panni dell'ispettore Stucchi che nella marca. Nel 2017 infatti, protagonista del film Finché c'è Prosecco c'è speranza, diretto da Antonio Padovan, girato nelle colline trevigiane. Un ritorno che questa volta l'ho portato in città. La città dove comanda il bianco, per me colore, mi ha colpito molto questa cosa perché, vabbè, già la conoscevo io insomma, però passeggiandoci in questi giorni sono rimasto molto impressionato dalla ricchezza di scorci, di angoli, di piazze. Sarà molto entusiasmante fotografare tutto questo. Stucchi, una serie diretta da Valerio Attanasio, ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas. Sono contento perché la cosa fondamentale è che raccontiamo un territorio bellissimo. Cioè noi dobbiamo avere tutti, come cittadini di questo territorio, l'idea che stiamo su un posto meraviglioso, che bisogna conservarlo, difenderlo e tutte le volte che lo racconti bene lo difendi e fai cultura su questo territorio. Raccontare un territorio per difenderlo quindi, ma anche per nuove opportunità. Una produzione cinematografica porta ricchezza, nel senso che porta tutto un giro di, ovviamente, interesse in città e porta poi anche la possibilità di essere conosciuta, quindi diventa un importante vettore di marketing territoriale, quindi di promozione del territorio.